c'era la camera in alto no no perchè stai fuori l'ho buttato basso c'era un altro c'è uno sopra front in custom c'è orix orix davanti a me che mi prende per il culo si c'è l'altro che c'è stato c'è l'altro che c'è stato c'è l'altro che c'è stato scusami che io sono morto perchè ha tepidato era in sopra ok continuo c'è l'altro che c'è stato 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 questo è comunque io sono morto pink server è la porta è il pink ma avrei fireato via penso attacca di vita sta plantando? no 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 pink è qui dove c'è il filo spinato inna no è lì è lì è lì che c'è lì è lì una da lì è lì l'altro non si è lì Sì, stanzino, uno stanzino Merda, gente Guarda il filo, ora È lì dietro Sì, sì, sì Sì Sì, sì Ma non so se Nini ha visto il mio down fight, non è morto? Ma ti compagino? Figlia, quello tuo finca era finito L'ho lasciata mezza vita io Madonna, io non ho trovato in foccia, non ho manca avuto i riflessi di sparare Sai quanto l'ho lasciata io, Debbie, finca? Voglio la to- io, morto fuori Dentro uno, dentro uno Morto, morto Dentro? No, no, dentro qua Doppia porta C'è uno barra due droni, Nini C'è un drone qua Quarto Attento Nini, arriva, arriva Dove? È andato in bagno Scendo, scendo È andato in bagno C'è un altro Nini sopra? Non pulso niente Lo vedo in bagno, in bagno, in bagno, in bagno Sta venendo verso l'altra, la uscita del bagno No, poi la toglia l'altra, verso il muro Viene verso di me ora? Non ho pulso Lo vittato due volte sulle gambe Una fuori Viene verso l'uscita ora Sopra, rollo Morto Buono Ho vittato due volte sulle gambe Si vedeva le gambe ecco Qua mi sembra pulita, però non ho guardato di fianco alla botta Porta, penso, Valkyrie Mi sembra sul dirà Eh, il minけれllo Guarda qua sotto, guarda Guarda quanto è l'alt tot Ho PC 4 sono dentro sono dentro arrivo qua arrivo resta lì dove c'è questa porta? in fondo a destra c'è Warden è qua Thunderbird è in bagno dove va il bagno? occhio avete una camera dietro Thunderbird metà vita dove? ehm vicino al bagno e invece Warden invece? Warden non lo so adesso ma era dentro o fuori? sono entrambi con il site erano in spogliatoio sto guardando la porta io oh Nini troppo ti dalla botola troppo ti dalla botola Anderbird è ancora in bagno io sto guardando la porta del site guardo l'altra allora arriva arriva blinded è down M**** Warden davanti a me fuori il doio scendo da gialla e l'altro porta e l'altro porta Debbie devi guardare l'altro porta guarda dal drone niente ce l'ho sì porta è uscito sparsi il tether 3 o 4 sono in garage Ok, guardo sotto io Stava sparando, era lui Non c'è da te E ne sono altre due Dove? Dove? Blue dove? Blue In fondo Una scala e una doppia Ma è già lì Porto Blue Porto l'altro Non so come mi abbia ucciso Perché ha preso un Minimo 10 gol in faccia Grazie Bravo Vedi Va Madonna che c4 La ha incorniciare Madonna che round Brava 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 Buona Bruciata Bravo Quanto ne hanno? Ma ragazzi ma c'ha 3 ds qua davanti Vabbè Ma come cazzo sto vedendo che altro stiamo giocando? quindi? niente a fuori se volete posso provarmi a tirare una strada? aspetta eh morto kide morto kide morto kide riusci a sporcarmi kide? no mi apri il tuo drone aspetta vai vai grazie beh hanno mi rassicuro dov'è moro? in bar in bar? è salito da blu ma dai mira mira non ho altre info ha spaccato il drone ha spaccato anche il mio drone beh è bar uno no no mi sarebbe falluto su warden è salito da blu non ho info eh potrebbe essere in bar no blu 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 sopra sto preferendo blu io adesso è in scale di blu si si ovvio lo vedo lo vedo non è quello non è lui non è lui uno in sight raga oh puttana 3 ids davanti adesso li faccio anch'io che avre il drone ho interrato uno ma no ma ha tirato giù ha usato la porta ha usato la porta eeeh 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 che cazzo di mongoli sono che cazzo di mongoli sono eeeh guarda che bella idea che ci hanno avuto ma cosa fanno ma cosa fanno eeeh info info più come possiamo eeeh se sotto in un'altra porta ha preso un incinta colpi ma ha ancora più di metà vita non so come si ma porca è dai 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 eeeh dove cazzo dov'è scendo si in sight però e qui in sight eh scendo forse altro l'ultimo non so non so non so non so ma tre o alto può essere uff io mi sono rotti i coglioni però gli sta cazzo di arma di merda eh ti prende sui ginocchi di buon shot ha mancato tutti i colpi ha preso un colpo sui ginocchi non ho capito dove è passata in più ma sono risale e vi sono uguali secondo me Dini tu hai passato